Una mostra già apprezzata nella scorsa edizione che si rinnova nel 2023. Il quartiere Madonnella a Bari torna ad essere un punto di riferimento artistico e culturale. Torna fino al prossimo 27 agosto, il mattino all'Ori in Bocca. Opere e rappresentazioni si concentrano tra Via Dalmazia e Via Spalato, sui balconi e con tanto di naso all'insù. Voluta dal curatore Francesco Polo del Re, stavolta c'è una differenza importante rispetto ad un anno fa. La mostra visiva è infatti passata dal coinvolgere i balconi dell'appartamento dei collezionisti a tutti gli abitanti di questa parte della città, peraltro con convinto entusiasmo. Diversi gli artisti che ci hanno messo firma e anima, come Natascia Battista, Pierluca Cetera o Marika D'Ernest. I temi sono i più disparati e in qualche caso sono ripercorsi anche aspetti della quotidianità barese. Quattro angoli di strada, anche a due passi della Pinacoteca. Una scelta non casuale per rinforzare l'aspetto culturale della città di Bari.